Sarà inaugurata domani alle 17.30 presso l'hotel Riviera Blea a Diamante la nuova condotta Slow Food Riviera dei Cedri che abbraccia i comuni da Tortora a Paola. Istituita in un territorio fortemente caratterizzato dalla cultura di un agrume tanto prelibato quanto a rischio d'estinzione, qual è il cedro, si porrà come le altre oltre 1300 presenti in tutto il territorio mondiale l'obiettivo di diffondere la filosofia del buono, pulito e giusto che da anni costituisce lo slogan vincente di Slow Food. Prima uscita per la condotta altoterrenica che ufficializzerà il comitato di condotta e a seguire proporrà il convegno biodiversità, territorio e turismo sostenibile che vedrà la partecipazione oltre che degli amministratori del territorio quella dei rappresentanti regionali di Slow Food. Ovviamente non mancherà la degustazione di prodotti a base di cedro dall'aperitivo ai prodotti realizzati dalle aziende locali fino agli stuzzichini salati alla pasticceria. Spazio anche alla musica con la collaborazione del Peperoncino Jazz Festival tra i primi cinque più importanti festival jazz d'Italia. Un prologo della quindicesima edizione che prevede una sessantina di concerti da metà giugno ai primi di ottobre. In attesa di svelare il programma dell'edizione 2016, il festival organizzato dall'Associazione Culturale Picanto e diretto da Sergio Gimigliano proporrà in anteprima in esclusiva italiana il concerto in piano solo del pianista Estone Christian Randallu.